allora domanda il plotly cheat sheet può essere consultato all'esame la domanda è sì tenete conto che però per l'esame come verrà fatto ora non dovrete scrivere nulla di javascript quindi lo potete consultare ma non vi serve nulla il codice plotly dovrete poi andarlo a scrivere a casa successivamente però ragionevolmente quando l'esame si tiene in laboratorio si avete accesso al cheat sheet per provare a risolvere i problemi più pratici allora l'obiettivo di oggi dicevo è quello di parlare di plotly che è la libreria che utilizziamo per andare a generare dei grafici interattivi in java non riprendo tutto quanto detto nella lezione riprenderò semplicemente gli aspetti essenziali e vedremo i passaggi chiave su qualche esempio allora andiamo ad aprire il nostro webstorm quindi partiamo da un file html praticamente vuoto che ci serve per andare a inserire i nostri grafici quindi che cosa mettiamo dentro il nostro file sostanzialmente andiamo a inserire un tag javascript che serve per includere quelli che sono tutti i contenuti della libreria plotly quindi come avevamo visto anche per jquery è necessario andare a importare la libreria e questo lo facciamo con un tag di tipo scritte la sorgente che vedete indicata qua è quella diciamo ufficiale vedete che usa cdn.plotly quindi usa un conde delivery network che come vi avevo già accennato velocemente parlando di jquery è sostanzialmente una rete di server che permette di accedere in maniera molto più efficiente ai contenuti senza dover andare per forza tutti a accedere allo stesso server quindi normalmente ascediamo a una cdn e questo ci rinvia a un server che fisicamente e quindi in termini di connessione di velocità di trasmissione più prossimo a noi normalmente facendo gli esercizi al live c'è una versione una copia di plotly disponibile sulle macchine all'interno del politecnico ma visto che in questo momento siamo tutti ognuno a casa propria conviene utilizzare una cdn anche perché in questo modo chiunque acceda scarica la versione di plotly dalla cdn più vicina più prossima e in maniera più efficiente soprattutto una volta che l'ha scaricata una volta resterà in cache quindi sarà più efficiente che cosa dobbiamo fare per andare a generare un grafico utilizzando plotly allora dobbiamo innanzitutto individuare un elemento diciamo un div che è l'elemento più neutro che abbiamo qui diamo un id grafico all'interno del quale andremo a inserire il nostro grafico quello che possiamo fare sul nostro id è andare a definire direttamente nello stile una larghezza quindi può essere una larghezza assoluta ad esempio 600px e 400px scusate non due punti invece dell'uguale oppure può anche essere una larghezza relativa che va sostanzialmente a riempire tutto quanto è disponibile in termini di schermo se non mettete questo plotly cerca di ridimensionare il grafico in maniera ragionevole dopodiché abbiamo bisogno dei dati abbiamo bisogno di due array minimi che sono le coordinate x e le coordinate y quindi ad esempio andiamo a dire che la variabile x è uguale a un array con i valori 1, 2, 3, 4, 5 la variabile y è uguale a un array con dei valori 1, 3, 7, 5 e 8 e poi dobbiamo andare a costruire la struttura dati quindi passiamo a una funzione che si chiama plotly.plot questo ha bisogno di sostanzialmente due strutture dati una che contiene i dati e le informazioni sulla codifica grafica che di solito viene chiamato tracce e un altro che dà informazioni sul layout generale le tracce devono essere definite come un array per cui io posso avere più tracce dati ogni traccia include una coppia x y più alcune informazioni quindi all'interno delle mie tracce io posso mettere più elementi per cui prima traccia è uguale a un oggetto che abbia alcune informazioni fondamentali ovviamente un valore x che è uguale alla variabile x nel nostro caso una proprietà y che è uguale alla variabile y nel nostro caso anzi fatemi rinominare questa variabile dati x e dati y così evitiamo di confondere i nomi delle proprietà con i nomi dei dati e poi abbiamo la necessità di andare a definire anche il tipo di grafico quindi type e diciamo che il tipo più semplice è il tipo scatter scatter vuol dire un grafico a dispersione in cui i punti sono dati dalle coordinate x e y però qui potremmo scrivere bar potremmo scrivere pi potremmo scrivere altri tipi di grafici che abbiamo a disposizione quindi nelle mie tracce vado a fare e vado ad aggiungere la mia prima traccia avrei potuto scrivere tutto in un colpo solo ma diciamo che in questo modo ho scritto le cose in maniera un po' più compatta rispetto scusate un po' più sbordolata un po' più comprensibile rispetto a quella compatta che forse abbiamo visto nelle slide una volta che ho questo che cosa devo fare devo anche andare ad aggiungere le informazioni relative al layout il layout è anche lui un oggetto che normalmente ha alcune informazioni molto molto semplici ad esempio il titolo che viene mostrato in cima al grafico e una cosa che spesso si mette sono i margini per andare a definire i margini esterni al grafico però potrebbe potenzialmente essere un qualcosa di vuoto per cui smettiamoci il titolo grafico di esempio quindi abbiamo prima cosa i dati che poi andiamo a riportare anche qui la codifica grafica quindi andiamo sostanzialmente a dire come questi dati sono connessi e infine andiamo a indicare le informazioni sul layout quindi informazioni aggiuntive su layout scusate qui ho dimenticato una graffa aperta il metodo plot che cosa fa va a prendere l'id ok che avevo dimenticato di inserire qua prima quindi questo id dell'elemento in cui creare il grafico il secondo è l'array con le tracce e il terzo sono le informazioni di layout quelle che abbiamo definito un attimo fa subito sopra a questo punto questi sono gli elementi fondamentali provo a lanciarlo e sostanzialmente non vedo nulla perché non vedo nulla perché lo vediamo qua nel messaggio che ci dà il nostro browser no DOM element with id grafico exist on the page se voi andate a riprendere il grafico che avete qua abbiamo copiato questo id qui perché non dovrebbe esistere in realtà non è che non esiste non esiste ancora perché nel momento in cui io vado ad eseguire questo script questo script l'html che sta sotto e che definisce un elemento con id grafico non è stato ancora letto dal browser e quindi nel momento in cui facciamo questa chiamata e cerchiamo di andare a prendere un elemento che ha come id grafico non esiste per questo motivo normalmente quello che si fa è di andare a mettere questo frammento di codice non direttamente così dentro uno script ma bensì all'interno di una funzione che verrà invocata quando la pagina è completa come facciamo a sapere quando la pagina è completa beh per nostra fortuna e soprattutto perché è un problema comune e quindi hanno trovato una soluzione generica esiste un evento che si chiama load che viene gestito dall'oggetto window quando la pagina è completa quindi il browser una volta che ha terminato di caricare la pagina ha caricato anche tutti i contenuti interni che cosa fa segnala che l'evento load quindi è stato terminato il caricamento di tutta la pagina e di tutti i contenuti quindi window.load è proprio quell'evento per cui dentro la proprietà load dell'oggetto window noi possiamo andare a definire una funzione e questa funzione verrà chiamata quando il caricamento della pagina è terminato quindi questa è la funzione chiamata quando la pagina è completamente carica nel browser ok? in questo modo io sono sicuro che quel codice verrà eseguito soltanto dopo che la pagina è completa per cui se vado a ricaricare la mia pagina continuo a avere un errore scusate cosa ho scritto allora window in realtà avete ragione non è load ma è on load ok? grazie per la correzione quindi on e poi l'evento a questo punto effettivamente ricaricando compare il nostro grafico ok? con le dimensioni che abbiamo dato prima quindi abbiamo già visto prima che compare l'asse x l'asse y le operazioni di over ovviamente posso qui andare a fare scusate di nuovo vado a fare uno zoom interno oppure mi allontano posso fare queste operazioni che sono di spostamento dell'origine oppure posso fare un reset che mi riporta la situazione iniziale ok? quindi questo è sostanzialmente l'elemento base che ci serve per poter andare a creare un grafico ovviamente io posso avere più di scusate qui di nuovo l'ho chiamato titolo ma in realtà è un title posso avere più dati per cui ad esempio potrei avere dati y2 e qui vado a mettere dei dati leggermente diversi per cui posso definire un'altra traccia identica a quest'altra seconda traccia dove i dati x sono sostanzialmente gli stessi e i dati invece y prende dal secondo utilizzo sempre scatter e aggiungo all'array delle tracce anche la mia seconda traccia a questo punto se ricarico la pagina vedete che ho le due tracce vedete che di fianco mi è comparsa una leggenda vi allargo un po' la pagina così si vede meglio il titolo compare perché ovviamente prima non compariva perché avevo usato il nome titolo invece di title compare una leggenda che mi dice quelli che sono le due tracce vedete che ho traccia 0 e traccia 1 perché sostanzialmente non ho dato nessun nome alle mie due tracce quindi un altro dato che io posso andare a inserire all'interno delle mie tracce è ovviamente il nome prima e seconda a questo punto salvo ricarico vedete che a questo punto i nomi delle due tracce qua sono quelli che corrispondono alle mie due tracce allora per fare il direct labeling è un po' più complicato bisogna usare delle annotazioni non c'è un meccanismo automatico per fare il direct labeling ok poi vediamo magari dopo e alla fine se abbiamo tempo vediamo le annotazioni se no comunque lo vediamo nella prossima lezione allora i colori sono sempre quelli nel senso che arancione e azzurro sono quelli predefiniti ovviamente io posso andare a cambiare i colori quando ho un oggetto di tipo scatter ovviamente ho due aspetti sia le linee che quelli che vengono chiamati marker per cui posso andare a cambiare le colore delle linee e colore dei marker c'era un esempio nell'ultima lezione che vi ho caricato ovviamente ogni traccia è indipendente e quindi ogni traccia può utilizzare ad esempio una codifica diversa per cui la seconda traccia potrebbe utilizzare come codifica quella di tipo var a questo punto ricaricando la mia pagina vedete che ottengo sostanzialmente esattamente la situazione di prima i colori sono sempre quelli solo che la seconda traccia ha come codifica quella di barra ok e che sono le due codifiche principali non sempre una grande idea combinare linee e barre però se volete si può fare a questo punto torniamo indietro e andiamo a vedere un altro aspetto importante che è come faccio a disegnare un grafico a partire da dati che non sono scritti direttamente qui ma vengono letti ad esempio andando a prendere dei dati forniti da un file json oppure generati da qualche server web allora domanda se si combinano due barre plotly le sistemi in maniera adeguata si nel senso che se io metto le due barre queste vengono messe affiancate se voglio metterle una sopra l'altra devo andare a specificare nel layout che le barre le voglio messe una sopra l'altra comunque quello che è importante notare è come con poche istruzioni io riesco a generare un grafico che è sostanzialmente già fatto bene allora domanda libreria plotly deve essere caricata si deve essere caricata è la riga che vi ho messo in alto ovvero dovete mettere questo script che carica la riga ve lo copio in chat così ce l'avete a disposizione senza senza quello ovviamente non non ha nessun accesso non esiste la definizione di plotly non esiste la definizione di niente ok a questo punto quello che vogliamo fare è andare a prendere dei dati che sono presenti in un file ad esempio un file json che avevamo usato negli esempi precedenti è questo qua il piano di studi in cui abbiamo il nome dell'insegnamento l'anno il periodo didattico e il cfu ad esempio potremmo andare a mettere il nome dell'insegnamento e il cfu quindi andiamo qui e andiamo in coda a questo codice a scrivere un altro frammento che serve per andare a generare un altro grafico attenzione non posso mettere un altro window.onload uguale function e quindi definire un'altra funzione perché altrimenti vado a sovrascrivere questa e il risultato è che verrà chiamata l'altra e non questa quindi in generale state attenti quando definite un window.onload perché se lo fate più volte conta l'ultima e quindi ripetete quelle precedenti piuttosto andate a definire delle funzioni separate che chiamate all'interno della funzione window.onload io vi metto qua tutto all'interno di un'unica funzione ma ovviamente possiamo poi andare a separarle successivamente quindi abbiamo detto quello che vogliamo fare è andare a caricare dei dati i dati li possiamo caricare con una funzione che è definita all'interno di plotly quindi faccio un plotly .d3 .json e qui vado a mettere il nome dell'url completo o comunque l'url relativo del file che voglio andare a caricare piano studi .json quello che segue è una funzione di tqp callback quindi che verrà richiamata dalla funzione json quando il file contenuto del file è stato acquisito quindi questa funzione avrà un parametro errore e un parametro dati quindi sostanzialmente cosa succede quando il caricamento della mia pagina scusatemi quando il caricamento della mia pagina è tornato allora provo a resettare la vista ok e si vede avvisatemi che magari mi fermo e torno indietro ok a questo punto questa è la funzione di tipo callback che viene chiamata viene chiamata da json quando i dati sono stati caricati che cosa succede quando il browser ha terminato il caricamento della pagina chiama la nostra funzione onload questa funzione chiama la funzione json la quale prima o poi quando i dati sono stati caricati ovvero nel caso specifico magari al giro di pochi millisecondi chiama a sua volta questa funzione che vediamo qua e che non abbiamo ancora riempito ok questa funzione può andare a verificare se r e quindi se l'oggetto r è undefined vuol dire che è andato tutto bene altrimenti dentro r ci sono informazioni su che cosa è andato storto per cui nel caso posso fare un console punto error e vado a stampare l'oggetto r e poi ritorna nel senso che se ci sono stati dei dati se c'è stato un errore vuol dire che i dati non ci sono e quindi non ci posso fare nulla a questo punto il problema è voglio andare a fare una traccia quindi andiamo a definire una variabile tracess uguale un array che contiene un oggetto invece di fare il push come ho fatto prima vi metto tutto in un colpo solo abbiamo name uguale cfu x scusate non uguale ma due punti x due punti qui andremo a mettere qualcosa y due punti anche qui andremo a mettere qualche cosa e poi type e qui possiamo andare a mettere diciamo delle barre il layout potrebbe essere vuoto e dopodiché andiamo a fare un plot punto plot vado a metterlo in un oggetto che si chiama cfu che devo andare a definire sotto nell'html ovviamente passo le mie tra essies e passo un oggetto in cui title è cfu degli insegnamenti vado a definire qui sotto un altro div che chiamo cfu adesso adesso non metto lo stile così vedete la differenza in termini di auto ridimensionamento del nostro plot quindi tornando indietro quello che devo fare è andare a costruire qui un array di x e qui un array di y come faccio visto che i dati sono fatti in questo modo per cui ho un array ma non di x e y un array di oggetti e ognuno contiene un insegnamento l'anno il pd il periodo didattico e i crediti quello che posso fare è quanto segue inizializzo questi come degli array vuoti poi vado a fare for let riga of dati ricordiamoci che dati è un oggetto json e quindi torno un attimo qua vedete che è definito come un array di oggetti quindi posso andare a fare un'iterazione di quel tipo e poi vado a fare x scusate traces di 0 punto x punto push riga punto insediamento che è sostanzialmente il primo elemento e poi nella y andrò a mettere cfu 0 è la prima traccia e cfu e insegnamento sono attributi dell'oggetto riga che è una riga dell'array dati che è stato letto da qua ok allora completo con i punti virgola opportuni a questo punto ho messo all'interno delle mie tracce i dati per cui salvo e se non ho commesso errori ricaricando la pagina quello che ottengo è questo vedete che ho sulla x i corsi e sulla y i cfu ora voi mi direte ci sono diversi problemi di visualizzazione è vero però siamo noi che l'abbiamo scelto quindi gli errori li abbiamo fatti noi ok quello che possiamo fare ovviamente visto che abbiamo delle etichette di categoria molto lunghe mettere questo grafico girato in modo che le bare siano orizzontali questo lo possiamo fare eccoci qua andando a mettere qui orientation e mettendo orizzontale e poi andando a scambiare qua i valori di y e di x a questo punto salvo torno alla mia pagina che ricarico e a questo punto vedete che ho i miei dati mostrati in questo modo un paio di considerazioni proprio organizzative molto molto semplici vedete che uno qui ho dei dati che saltano perché non mi ci stanno tutti perché sono troppo schiacciati due i nomi più lunghi non ci stanno perché perché sostanzialmente il margine sinistro è troppo stretto quindi quello che posso fare è aumentare l'altezza del mio blocco di testo scusate il mio grafico e andare a creare più margine a sinistra in modo che ci stiano meglio le etichette e questo lo posso fare andando nello specifico a definire un oggetto tipo layout che è questo lo metto lo metto separatamente come variabile in modo che sia un po' più ordinata la scrittura e poi e poi vado a mettere un margine che è a sua volta un oggetto che ha quattro elementi che si chiamano T B L 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 qui quello che mi interessa mettere qui è andare a mettere L e vado a mettere ad esempio 200 gli altri non avendoli definiti sostanzialmente assumo di mantenere i margini che sono già predefiniti qui se vado a ricaricare vedete che a questo punto il margine è un po' più grande 200 non è ancora sufficiente probabilmente serve 300 e un altro aspetto che adesso andiamo a sistemare è scusate 300 sono gli aspetti di width e quindi vado a mettere ad esempio 800 e 8 e vado a mettere anche questo un po' più alto quindi possiamo mettere 800 anche qua ecco vedete che a questo punto l'altezza del mio grafico è cambiata perché l'ho specificata nel layout c'è sufficiente margine sulla sinistra per farci stare le etichette e l'altezza mi permette di andare a vedere tutte le etichette che compaiono per cui ritrovo tutti gli elementi adesso adesso ci arrivo quindi riepilogando vi faccio riepilogo poi se non ho risposto alla domanda me la chiedi di nuovo allora cosa succede quando il browser scopre che la finestra e tutti i suoi contenuti sono stati caricati tutti i suoi contenuti vuol dire anche gli script soprattutto questo qua remoto eventuali immagini chiama il metodo definito dentro la proprietà window.onload che oltre a generare il grafico di prima va a chiamare questo plot di json questo cosa fa carica il file json che abbiamo visto prima che è questo vedete è un array i cui elementi sono degli oggetti e tutti gli oggetti sono uguali e hanno attributi insegnamento hanno periodo didattico e crediti a questo punto quando in maniera asincrona perché questa viene fatta tramite un caricamento ajax il caricamento dei dati è terminato viene chiamata la funzione la funzione che è definita qua inizia qui e finisce qua sotto la riduco un po' ok la funzione come vi dicevo inizia qui e finisce qua sotto la funzione riceve due parametri il primo è un parametro che eventualmente ci definisce informazioni di errore se non ci sono errori questo è undefined e quindi if r ci darà un risultato falso ricordatevi che undefined viene sempre viene automaticamente convertito in false ok attenzione qui c'è la conversione implicita solita che viene sfruttata in java per evitare di scrivere tanto ovviamente se io scrivessi qui uguale uguale a false non funzionerebbe perché questo sarebbe undefined di qua o false quindi non funziona nel caso di errore stampiamo e terminiamo invece se va tutto a buon fine cosa facciamo creiamo un array con un'unica traccia che ha un nome i due elementi x e y a come tipo barra come orientamento orizzontale e poi andiamo a scandire tutti gli elementi del nostro array dati letto tramite la chiamata di tipo ajax e per ogni riga andiamo a prendere l'insegnamento e i crediti e li inseriamo all'interno degli array y e x che abbiamo già definito qua come vuoti io qui ho messo traccia di 0 perché comunque è la prima ma volendo potrei mettere traccia uguale traccia di 0 e quindi qua utilizzare traccia se vogliamo essere un po' più compatti non meno compatti ma forse più comprensibili a questo punto una volta che abbiamo riempito il nostro x e y definiamo un layout che abbia un margine sinistro sufficientemente ampio per ospitare tutte le nostre nomi degli insegnamenti andiamo a mettere dimensioni orizzontali e verticali tali da permettere di poter scrivere tutti i nomi dei corsi ovviamente questo uno non può saperlo in anticipo se non conosce i dati o se non ha un'idea più o meno di quali sono i dati per cui si fa un po' per tentativi tenete presente che quando dovete andare a disegnare un grafico la prima versione probabilmente la fate in 5 minuti neanche il tempo in cui abbiamo scritto questo veramente io vi ho descritto passo passo però erano 5 10 minuti al massimo molto più tempo richiede andare a fare tutti i passi di raffinamento che cercano di andare a migliorare la visualizzazione quindi abbiamo visto subito che le barre radicali non andavano quindi le abbiamo girate non ci stavano quindi abbiamo aumentato lo spazio ci stavano però erano sovrapposte quindi il plot non ci mostrava tutte le etichette ma ci mostrava soltanto qualcuna e quindi abbiamo aumentato le dimensioni quindi abbiamo fatto tutta una serie di passaggi andando a vedere il risultato e correggendolo quindi non è assolutamente anormale impiegarci 10-100 volte il tempo che impieghiamo a fare la prima versione per andare a sistemare il grafico domanda è possibile andare a indicare un colore diverso per il grassetto nella label allora sul grassetto non sono sicuro sul colore sì nel senso che posso andare a definire un array di colori quindi qui no scusate qui quando vado a definire la la mia traccia con tutte le caratteristiche posso andare posso andare a mettere un marker due punti color e qui posso mettere o un colore unico ad esempio questo ok e quindi mi viene messo il colore oppure qui posso andare a mettere un array e ogni elemento dell'array contiene un errore per cui scusate un errore un colore diverso per cui quando andiamo a fare questa operazione ad esempio se riga cfu è maggiore di 10 andiamo a fare traccia punto marker punto color punto push red altrimenti vado a mettere un still blue che è simile a quel colore che abbiamo visto prima quindi se non ho fatto errori a questo punto ricaricando la pagina vedete che ho blu e ho una che è evidenziata domanda quindi l'esame sarà fondamentalmente un redesign da fare con plotly in modo raffinato correggendo borti width eccetera sì facendo l'elaborazione dei dati perché vedete comunque dovete estrarre dei dati andando a ritoccare colori scegliendo l'opportuna visualizzazione eccetera quindi questa è la parte diciamo di programmazione dell'esame ok quella che farete a casa per conto vostro ok non con la con la pressione del tempo che scade ok mentre invece nell'orario ufficiale dell'esame ci sarà una parte di analisi secondo quei punti che abbiamo visto già dall'inizio del corso in cui dovete andare a scrivere qualche cosa avrete delle caselle di testo aperte in cui andrete a commentare diversi aspetti di presenza della domanda che sia chiara problemi di qualità dei dati proporzionalità utilità chiarezza e poi dovrete andare a dare qualche idea molto molto vaga di come vorreste fare il redesign quanto meno mi immagino una volta che avete capito come il grafico quali sono le limitazioni il tipo di diagramma da fare che sia un diagramma totale che sia un diagramma barre a linee eccetera ecco questa idea mi immagino che riusciate ad averla poi è chiaro che non chiedo che durante l'esame siate in grado di definire tutti i dettagli anche perché molti dettagli uno li scopre man mano che va a visualizzare il grafico richiamando il metodo plot su un grafico in realtà lo modifica c'è un altro metodo che si chiama plot new mi pare che in realtà lo soprascrive inoltre c'è anche un altro metodo che si chiama update che permette di andare a aggiornare un grafico ad esempio andando a modificare i colori andando a modificare i dati eccetera però non entriamo a questo livello di dettaglio nel senso che insomma manca poco alla fine del corso quindi se riuscite a utilizzare plotly per disegnare un grafico semplice senza dover andare a alterarlo o modificarlo in risposta ad eventi è più che sufficiente allora domanda redesign sul grafico sull'intera pagina web beh no ragionevolmente io vi do un un diagramma i dati e voi dovete andare a rigenerare il diagramma quindi sul CSS non è strettamente necessario perché non dovete mettere nulla quindi CSS c'è già è ovvio che dovete sapere quali sono gli elementi fondamentali di CSS perché poi ad esempio i nomi dei colori e altro sono definiti qua quindi andare a capire gli elementi fondamentali è importante ok quindi la pagina in cui è ospitato il grafico è quella in qualche modo dovete gestirla quindi dovete sapere quali sono le varie porzioni un altro aspetto importante quando andiamo a fare una visualizzazione è l'ordine con cui andiamo a mettere gli elementi l'ordine è estremamente importante perché può andare ad alterare pesantemente quella che è la nostra percezione per cui è ovvio che così non è né un ordine alfabetico né un ordine di dimensioni nulla per cui quello che ragionevolmente conviene fare è quanto meno andare a ordinare se quello che ci interessa è sapere quali sono le dimensioni dei nostri insegnamenti ad esempio andare a ordinare i nostri dati per cui quello che possiamo fare è fare un dati punto sort e qui vado a definire quindi corso 1 e corso 2 e vado a indicare come di confronto ad esempio c1 punto cfu meno c2 punto cfu per cui in questo modo se vado a rigenerare il mio diagramma vedete che l'ordinamento a questo punto è per ordine di cfu per cui una cosa importante è a parte questa struttura che è tutto sommato predefinita quindi avere il window onload avere il plot id3.json non porto id3.csv a seconda che dobbiate leggere un file json oppure csv la chiamata del metodo plot dovete definire il layout dovete definire le tracce ecco poi c'è tutta una parte intermedia in cui dovete andare a prendere i dati che stanno nel file e in qualche modo elaborarli in modo che abbiano che possano dare origine a un array di x e un array di y che sono quelli che poi andiamo a mostrare qua quindi questi sono i due aspetti diciamo così fondamentali nell'andare a generare un grafico utilizzando plot allora la funzione domanda perché la funzione window.onload chiama direttamente questa d3.json beh sostanzialmente perché io aspetto che tutta la mia pagina sia caricata una volta che la mia pagina è caricata vado ad attivare il caricamento dei dati non posso andare a fare il caricamento dei dati prima o meglio non è raccomandabile fare il caricamento dei dati prima perché potrei leggere i dati più velocemente di quanto la pagina venga composta quindi aspetto che venga caricata la pagina dopodiché avvio la lettura del dato json quando il dato json è completato automaticamente questo mi andrà a chiamare la funzione che vediamo qua ok quella che è definita qui quindi è una serie di funzioni che richiamano una l'altra quando scadono una serie di eventi quando la pagina è completa viene chiamato il window.onload quando il dato è caricato viene chiamata quella funzione e questa funzione fa le sue operazioni e poi va a fare l'operazione di disegno che è quella che viene fatta con il plot quindi l'idea è che io devo aspettare che sia pronto qualcosa prima prima di poter procedere e questo meccanismo essendo sia il caricamento dei dati che la costruzione della pagina in generale delle attività asincrone non posso semplicemente dire carica pagina anche perché non lo faccio io direttamente o carica dati perché i dati potrebbero arrivare in un secondo momento quindi non posso stare lì ad aspettare che cosa faccio definisco una funzione di callback questa in risposta al caricamento dei dati e questa qua in risposta al completamento della pagina che verranno chiamate quando è tutto pronto ok in un mondo più semplice e lineare non avrei bisogno del non load non avrei bisogno di questa di questa altra funzione ma semplicemente andrei a dire dati uguale plot di 3 json carica una volta che ho i dati faccio l'esecuzione in realtà in javascript tutto viene o quasi tutto viene fatto in maniera asincrona quindi questo se vuoi è una spiegazione del perché devo farlo in maniera così articolata invece di fare una chiamata dopo l'altra torno un attimo qua e vado sulla pagina di vick vado a prendervi il cheat sheet quindi qui ci sono i blocchi di codice che comunque dovete utilizzare vedete che qua c'è il content delivery network ok quindi direi che domanda giovedì faremo il lab su plotly sì quindi inizierete a lavorare utilizzando plotly quindi avrete modo di impratichirvi quindi qui c'è tutto il codice i tre blocchi di codice che vi dicevo prima più o meno standard come faccio a fare dei plot tipo a linee a punti vedete qui se metto mode markers tolgo le linee e lascio i punti barre barre orizzontali box plot histogrammi nel caso degli histogrammi ve lo ingrandisco così si vede meglio e faccio anche così allora nel caso degli histogrammi stavo dicendo non c'è x e y ma c'è soltanto x e quindi vengono contate quante volte compare ogni singolo valore e quindi la y viene calcolata come frequenza dei singoli valori che compaiono nella x per avere più tracce l'abbiamo già visto basta mettere due elementi nell'array tracce posso avere più grafici di tipo diverso all'interno dello stesso grafico c'è un esempio ma questo forse ve l'ho fatto vedere anche nella lezione registrata di riempimento dell'area lo scattergeo in cui vado a utilizzare le coordinate in termini di antitudine e longitudine la mappa coroplet in cui sostanzialmente ho due informazioni che sono la location quindi il nome del paese e questi sono i codici ISO internazionali e poi z che è la dimensione che viene convertita in un colore utilizzando poi questa barra allora qui ci sono un po' di esempi di come posso andare a modificare colore dimensione caratteristiche delle linee scusate la linea il bordo del marker questo line qua fa riferimento alla linea di contorno del marker mentre invece questo line qua a livello più alto è la linea che connette i vari punti le barre qui abbiamo le forme vedete che ci sono o le linee dirette o le linee di tipo V H oppure le linee di tipo H e poi V quindi orizzontale verticale oppure verticale poi orizzontale oppure questo verde che è una spline una spline non so se non mi ricordo se ve l'ho accennato durante la lezione è sostanzialmente un frammento di curva che è descritta da una polinoniale di terzo ordine e ovviamente per ogni coppia di punti c'è un'equazione diversa e le varie equazioni sono calcolate in modo da avere delle curve che ovviamente passano per i punti e in più facendo in modo che le derivate la derivata prima nei punti in cui si incontrano due curve siano sostanzialmente uguali e siano definite dalle posizioni dei punti che stanno a contorno ecco poi alcune informazioni sui layout allora qui sul layout io posso andare a definire oltre al titolo il nome dell'asse x e il nome dell'asse y quindi x axis e y axis sono i due parametri che servono per andare a descrivere l'asse x e y la proprietà più semplice su entrambi gli assi è il titolo quindi questo e questo mentre invece il titolo generale è quello che viene scritto sopra il grafico una cosa che posso fare è andare per l'asse x e l'asse y a definire quello che è un range ovvero l'intervallo che viene mostrato all'interno della pagina ovviamente io poi posso andare a spostare il tutto questo è un altro discorso questo è l'intervallo che viene mostrato all'inizio quando lo studisco il grafico un altro aspetto che può essere utile è il fatto che io posso utilizzare quello che si chiama un tick format ovvero il formato con cui vado a descrivere le etichette che compaiono su un'asse o sull'altro può essere comodo utilizzare come tick format il percento e se voglio cambiare l'ordine con cui vengono mostrati gli elementi posso utilizzare auto range reversed e quindi questo mi mostra i dati in senso inverso la cosa un po' più complicata è quella in cui ho più assi ma non entro nel dettaglio direi che ce l'avete nella lezione commentata e poi ho un po' di informazioni aggiuntive per cui ho ad esempio la possibilità di definire delle annotazioni all'interno del layout domanda volessimo ordinare allora torno qua sull'esempio di prima volessimo andare per ordinare il nostro grafico di prima non per cfu come in questo caso ma in base al nome dell'insegnamento quello che posso fare è andare qui a fare cfu punto insegnamento e insegnamento ok se fossero se fossero delle degli oggetti definiti come dei numeri ok javascript tenete conto che mi accetta questa scrittura perché andrà a convertire l'insegnamento in un intero quello che posso fare è sull'insegnamento è andare a verificare se insegnamento è uguale a cfu insegnamento return zero if c1 punto di insegnamento è maggiore return di 1 altrimenti return di meno 1 è è un po' più elaborato di prima però tutto sommato non è troppo complicato in questo caso ricaricando la pagina ottengo un ordinamento alfabetico ovviamente il primo quello più piccolo è quello più vicino all'asse x e poi salgo forse c'è un metodo che si chiama compare to trastring però non sono sicuro di ricordare se sia in S6 o no le annotazioni possono essere utilizzate per andare a fare quello che è il direct leveling un'altra cosa importante e quando voi avete anni o comunque dei numeri che non rappresentano dei valori numerici attenzione a utilizzarli direttamente perché il rischio è che qui vi troviate 213.5 che su un anno ovviamente non ha minimamente significato per cui se volete evitare che vengano trattati come dei numeri ma vengano tratti come categorie dovete andare a mettere come tipo categorie in questo caso invece di essere trattati come numeri sono trattati come etichette ordinati ovviamente ma senza i valori intermedi e qui sotto vediamo un paio di altri grafici un po' più complessi barre divergenti e slow plot vedete che qua ho un'annotazione diretta fatta con delle annotazioni allora domanda nella prenotazione degli esami c'è scritto che l'esame verrà utilizzando Vlive quindi l'esame userete un pc del live in remoto no io le modalità di esame ho dovuto scegliere un mese fa in cui non sapevo ancora esattamente come funzionavano quindi ho messo quella opzione che è quella più flessibile in pratica utilizzeremo utilizzerete una modalità di esame standard con un software che si chiama exam quindi una specie di questionario online all'interno dell'hotown browser e poi la parte di programmazione invece la farete offline quindi non nell'orario dell'esame ok anche perché non è garantito che WebStorm e Git funzionino correttamente su quei pc e quindi mentre funzionavano sui pc del live su quelli non è garantito quindi preferisco evitare problemi e farvi fare la parte di programmazione in maniera separata ok direi che vi ho dato un po' una panoramica con qualche esempio non starei a entrare più nel dettaglio anche perché praticamente siamo alla fine della lezione giovedì ci sarà il primo laboratorio in cui potrete utilizzarlo quindi potrete iniziare a mettere le mani su il codice e quindi potrete andare a sviluppare un po' di visualizzazioni utilizzando plotly allora come vi dicevo la volta scorsa non faremo progetti extra stavo pensando di dare un bonus su dei progetti molto più piccoli anche perché farete comunque a casa la parte di programmazione vi dico qualcosa la settimana prossima potrebbe essere un piccolo progetto extra per darvi un bonus di punti però dobbiamo ancora decidere i dettagli quindi non vi dico ancora nulla ve lo confermo la settimana prossima ok se non ci sono altre domande specifiche direi che per oggi possiamo chiudere la lezione qui ricordatevi il laboratorio di giovedì perché inizierete a lavorare su questo e noi ci rivediamo la settimana prossima vi metterò un'altra lezione online ma non è strettamente necessaria per il laboratorio sarà sulle espressioni regolari che è un aspetto in più aggiuntivo che è bene conoscere ma non è necessario per svolgere il laboratorio perfetto a questo punto terminiamo rotonda o ok si si